parte prima 1 al principio di luglio con tempo caldissimo verso sera un giovane scese dalla sua stanzuccia che aveva in subaffitto nel vicolo di esse sulla strada e lentamente come irrisoluto si diresse verso il ponte di cappa egli scansò felicemente l'incontro con la sua padrona per la scala la sua stanzuccia riusciva proprio sotto il tetto di un alto casamento a cinque piani somigliava un armadio più che un'abitazione la sua padrona di casa invece della quale aveva in affitto questa cameretta con desinare e servizio compreso abitava una scala più in basso in un quartierino a sé ogni volta che gli usciva sulla via gli toccava inevitabilmente passare davanti alla cucina della padrona la cui porta era quasi sempre spalancata sulla scala e ogni volta al giovane passando lì davanti provava una certa qual sensazione penosa e pavida di cui si vergognava e per la quale aggrottava le ciglia egli era fortemente indebitato con la padrone e temeva di incontrarla non che fosse tanto pauroso e avvilito tutt'altro anzi ma da qualche tempo era in uno stato di irritazione e di tensione simile all'ipocondria a tal segno si era sprofondato in sé stesso isolato da tutti che temeva addirittura qualsiasi incontro non che quello della padrona era oppresso dalla povertà ma per fin le sue strettezze avevano cessato negli ultimi tempi di pesargli delle sue faccende quotidiane aveva smesso affatto né più aveva voglia di occuparsi non temeva appunto la padrona in fondo qualunque cosa quella meditasse contro di lui ma fermarsi sulla scala ascoltare ogni sorta di ciance su tutte quelle miserie di ogni giorno delle quali non gli importava un bel nulla tutte quelle insistenze per il pagamento le minacce e i lagni e dover intanto gli stesso schermirsi scusarsi mentire no era ben meglio sgusciare in qualche modo come un gatto giù per la scala e svegnarsela che nessuno vedesse del resto questa volta la sua paura di incontrare la creditrice fece impressione a lui medesimo uscito che fu in strada da qual faccenda voglio arrischiarmi a tempo stesso di che bazzecole ho timore pensò con uno strano sorriso sì tutto è nelle mani dell'uomo e tutto egli si lascia passare davanti al naso unicamente per vigliaccheria questo ormai è un assioma curioso che cosa gli uomini temono più di tutto un passo nuovo una propria parola nuova è quel che più di tutto essi temono ma del resto io chiacchiero troppo e non faccio nulla perché chiacchiero magari e anche così chiacchiero perché non faccio nulla e in quest'ultimo mese che ho imparato a chiacchierare stando steso intere giornate in un cantuccio e pensando fare a pisello beh perché vado adesso sono io forse capace di questo forse che questo è serio no non è serio affatto tanto così per una fantasia mi ballocco da me trastulli e siamo pure trastulli nella via era un caldo terribile e per giunta afa ressa dappertutto calcina legname mattoni polvere quello speciale puzzo estivo così noto a ogni pietroburghese che non abbia la possibilità di prendere a pigione una villetta tutto ciò ad un tempo scosse sgradevolmente i nervi già sconcertati del giovane l'insopportabile lezzo delle bettole poi il cui numero in quella parte della città è particolarmente grande gli ubriachi che ogni momento gli capitavano dinnanzi nonostante la giornata feriale e completarono il ripugnante e triste colorito del quadro un senso di profondissimo disgusto ballenò un attimo nei fini lineamenti del giovane a proposito egli era singolarmente bello della persona con magnifici occhi scuri di capelli castani di statura superiore alla media sottile e slanciato ma presto egli cadde come in profonda meditazione anzi per essere più esatti come in una specie di sonnolenza e tirò via senza più badare a quanto lo circondava e senza volerci badare tratto tratto mormorava solo qualcosa tra sé per la sua abitudine dei monologhi che dinnanzi egli stesso si era riconosciuta in quel momento poi egli medesimo aveva coscienza che i suoi pensieri a volte si ingarbugliavano e che era debolissimo era il secondo giorno ormai da che non mangiava quasi nulla era mal vestito al tal segno che un altro anche se a vezzo si sarebbe fatto scruppolo ad uscire di giorno in strada a cosi milicenci peraltro il rione era tale che lì col modo di vestire era difficile far meraviglia a qualcuno la vicinanza della sennaia l'abbondanza dei noti spacci soprattutto la popolazione operaia e artigiana ammucchiata in quelle vie e viuzze del centro di pietroburgo screzzava una volta il panorama generale di tali individui che sarebbe stato strano anche il meravigliarsi dell'incontrare certi tipi ma tanto rabbioso disprezzo già si era accumulato nell'animo del giovane che nonostante tutta la sua talora assai giovanile ombrosità men che di tutto si vergognava dei suoi cenci per via sarebbe stata un'altra cosa se avesse incontrato certi conoscenti io i suoi antichi compagni quei quali in genere non aveva piacere di incontrarsi intanto quando un ubriaco che in quel momento veniva trasportato per via non si sa perché né dove su un enorme carro vuoto un trainato da un enorme cavallo da tiro gli gridò ad un tratto passando ehi tu cappellaio tedesco e prese a berciare a squarciagola ditandolo il giovane si fermò all'improvviso e si afferrò convulsamente il cappello questo cappello era alto rotondo alla zimmerman ma ormai tutto logoro rossiccio affatto tutto buchi e chiazze senza falde e angolosamente ammaccato da una parte nel modo più sconcio ma non la vergogna bensì un tutt'altro sentimento simile addirittura a sgomento si impadronì di lui lo sapevo io mormorava turbato così la pensavo questo sì è peggio di tutto ecco che una qualunque sciocchezza di tal fatta una qualunque volgarissima inezia può gastare tutto il disegno sì un cappello che si fa notare troppo è ridicolo perciò si fa notare con i miei cenci ci vuole assolutamente un berretto possa anche una vecchia frittella pur che sia ma non questa mostruosità di così nessuno ne porta da lontano una versa lo noteranno lo ricorderanno soprattutto poi se ne ricorderanno ed ecco un indizio qui bisogna farsi notare il meno possibile le inezie le inezie sono l'essenziale ecco sono proprio queste inezie a rovinare sempre tutto non aveva da far molta strada sapeva perfino quanti passi dal portone di casa sua esattamente 730 un giorno li aveva contati quando già sarà molto immerso nel suo fantasticare a quel tempo egli ancora non credeva a queste sue fantasticherie e si stuzzicava soltanto con la loro mostruosa ma seducente temerità adesso invece un mese dopo già cominciava a vedere le cose altrimenti e nonostante tutti gli irritanti monologhi sulla propria impotenza ed esistenza sarà abituato in certo modo perfino controvoglia a considerare ormai la mostruosa fantasticheria come un'impresa benché tuttora non credesse a se stesso anzi andava ora a far la prova della sua impresa e a ogni passo la sua agitazione si faceva sempre più forte con uno struggimento di cuore e un tremito nervoso egli si avvicinò a un immenso casamento che dava con una facciata sopra un canale e con l'altra sulla via di questa casa si componeva tutta di piccoli appartamenti ed era popolata da ogni sorta di mestieranti sarti magnani cuoche da vari tedeschi da ragazze che vivevano per loro conto da minuti impiegati eccetera la gente che entrava e usciva non faceva che andare e venire sotto i due portoni e nei due cortili della casa c'erano lì tre o quattro porti nai il giovane fu assai contento di non averne incontrato alcuno e inosservato dal portone sgusciò subito a destra su per la scala la scala era buia e stretta di servizio ma egli già aveva studiato e sapeva tutto ciò e quella disposizione gli piaceva in tale oscurità anche uno sguardo curioso era esente da pericolo se adesso tanta paura che mai sarebbe se in qualche modo realmente accadesse di giungere ai fatti pensò involontariamente salendo al quarto piano e quegli sbarrarono la via dei facchini soldati in congedo che portavano fuori da un appartamento dei mobili già prima sapeva che in quell'appartamento abitava un tedesco con famiglia pubblico impiegato dunque questo tedesco ne sloggia dunque al quarto piano su questa scala e su questo pianerottolo rimarrà occupato per un po di tempo solo il quarterino della vecchia è bene per ogni evento penso di nuovo e sono all'abitazione della vecchia il campanello tintinnò debolmente come fosse stato di latta e non di ottone i piccoli quartieri con simili di queste case hanno quasi sempre dei campanelli così egli aveva già dimenticato il suono di quel campanello e ora quel suono speciale parve di un tratto ricordarli e presentarli con chiarezza qualcosa egli sussultò addirittura troppo ormai erano questa volta indeboliti i suoi nervi poco dopo si schiuse nell'uscio un'esigua fessura l'inquilina osservava dallo spiraglio e sopraggiunto con visibile diffidenza e si scorgevano appena i suoi occhietti brillanti nell'oscurità ma vista sul pianerottolo molta gente e la si rinfrancò e aprì del tutto il giovane varcò la soglia entrando in un'anticamera scura divisa con un tramezzo di là dal quale c'era una minuscola cucina la vecchia gli stava ad innanzi in silenzio e lo guardava interrogativamente era una vecchiuccia piccina secca sui 60 dagli occhietti acuti e cattivi con un piccolo naso aguzzo e senza nulla in capo i suoi capelli biondici un po' brizzolati erano copiosamente unti di grasso sul suo collo esile e lungo simile a una zampa di gallina era attorto non so che cencio di flanella e sulle spalle nonostante il caldo le ballonzolava un giubbetto di pelo tutto logore ingiallito la vecchiuccia tossiva e raschiava in gola ogni momento probabilmente il giovane le aveva gettato uno sguardo speciale perché anche negli occhi di lei balenò ad un tratto la diffidenza di prima raskolnikov studente fui da voi un mese fa e si affrettò a mormorare il giovane con un mezzinchino ricordandosi che bisognava esser più gentile ricordo batiusca ricordo benissimo che foste qui proferì la vecchietta distintamente tuttavia senza levargli dal viso gli occhi interrogativi e così ecco di nuovo per un affaruccio consimile continuò raskolnikov turbatosi un poco e meravigliandosi della diffidenza della vecchia forse è sempre così del resto e io quella volta non lo notai pensò con un senso sgradevole la vecchia attacqua un poco come esitando poi si tirò da parte mentre indicava l'uscio di una stanza pronunciò facendo passare avanti il visitatore entrate batiusca la piccola stanza in cui passò il giovane dalla tappezzeria gialla con gerani e tendine di mussola alle finestre era in quel momento vivamente illuminata dal sole al tramonto anche allora dunque splenderà così il sole balenò come l'impensata nella mente di raskolnikov e con un ma nella stanza non c'era nulla di speciale la mobilia tutta vecchissima e di legno giallo consisteva in un divano dall'enorme spaliera convessa una tavola di forma ovale davanti al divano una pettiniera con piccolo specchio tra due finestre sedie lungo le pareti più due o tre quadretti da pochi soldi in cornici gialli raffiguranti signorine tedesche con uccelli nelle mani ecco tutti i mobili in un canto davanti a una piccola immagine ardeva un lumino tutto era pulitissimo e mobili e pavimenti erano lucidati a specchio tutto brillava opera di elisaveta pensò il giovane non un granello di polvere si poteva trovare in tutto il quartierino e in casa delle vedove vecchie e cattive che suole esserci una tal pulizia continua trasera skolnikov e sbirciò con curiosità la tendina di percalle appesa davanti all'uscio della seconda minuscola stanzetta dove stava nel letto il cassettone della vecchia e dove gli non aveva ancora mai gettato un'occhiata tutto il quartierino consisteva in queste due stanze che volete domandò se veramente la vecchiuccia entrando nella stanza e mettendosi come prima proprio dinnanzi a lui per guardarlo dritto in viso ha portato un pegno ecco e tirò fuori di tasca un vecchio piatto orologio d'argento sulla cassa del quale era raffigurato un globo la catenella era d'acciaio ma sapete il pegno precedente è scaduto fin da ieri l'altro è trascorso il mese vi pagherò gli interessi per un mese ancora abbiate pazienza questo poi dipende dal mio buon volere se pazientare o vendere già adesso il vostro oggetto per l'orologio mi date molto agliona ivanovna ma tu vieni con pazzecole patiusca non vale quasi niente per l'anelluccio la volta scorsa due biglietti ti sborsai e lo si può comprare nuovo dal gioiellere per un rublo e mezzo datemi un quattro rubli poi lo riscatterò e del babbo presto riceverò denaro un rublo e mezzo l'interesse anticipato se volete un rublo e mezzo esclamò il giovane come volete e la vecchia gli tese l'orologio per ridarglielo il giovane lo prese e si adirò a tal punto che già voleva andare via ma subito cambiò idea ricordandosi che non sapeva più dove andare che era venuto anche per altro date disse ruvidamente la vecchia ficcò la mano in tasca per prendere le chiavi e andò nell'altra stanza dietro la tendina il giovane è rimasto solo in mezzo alla stanza tendeva l'orecchio curioso e rifletteva si udì come la perse il cassettone deve essere il cassetto di sopra e gli pensava le chiavi dunque le porta nella tasca destra tutte in un mazzo infilate in un anello d'acciaio e c'è una chiave più grossa di tutte e tre volte le altre un ingegno dentato certamente non del cassettone dunque c'è anche un qualche scrigno un bauletto questo sì è curioso i pauletti hanno sempre simili chiavi e d'altro lato come ignobile tutto ciò la vecchia ritornò ecco batiusco mi hai ragione di una grivna 5 al mese su un rublo per un rublo e mezzo mi dovete 15 coppeche anticipate per un mese e per i due rubli di prima mi dovete ancora anticipatamente secondo lo stesso conto 20 coppeche in totale dunque 35 vi spettano così adesso in tutto per il vostro orologio un rublo e 15 coppeche ecco prendete come allora solo un rublo e 15 coppeche adesso proprio così il giovane non stette a discutere e prese il denaro guardava la vecchia e non aveva fretta ad andarsene come se volesse ancora dire o fare qualcosa ma pareva che gli stesso non sapesse cosa precisamente io aliona ivanovna forse a giorni vi porterò ancora un oggetto d'argento un bel porta sigarette appena lo riavrò da un amico egli si turbò e tacque beh allora ne parleremo batiusca addio e voi state sempre sola in casa la sorella non c'è domandò più disinvolto che poter uscendo nell'anticamera e voi che ci avete a fare con lei batiusca nulla di speciale ho domandato così e voi subito addio maglione ivanovna e raskolnikov uscì profondamente turbato questo turbamento cresceva sempre più scendendo la scala egli si fermò persino più volte come colpito subitamente da qualche pensiero e infine ormai sulla via esclamò oh dio come tutto ciò è impugnante è possibile possibile che io no è una scempiaggine è una sordità soggiunse risolutamente e un simile orrore mai potuto venirmi in capo di che lordura è però capace il mio cuore soprattutto lurido lurido abbietto abbietto e io per tutto un mese ma non poteva né a parole né con esclamazioni esprimere la propria agitazione il sentimento di infinito disgusto che aveva cominciato a opprimere a tormentare il suo cuore già mentre andava dalla vecchia raggiunse ora tali proporzioni gli si rivelò così chiaramente che egli non sapeva dove trovare scampo dalla sua angoscia camminava per i marciapiede come ubriaco senza accorgersi dei passanti e scontrandosi con essi e si riebbe solo nella strada successiva guardatosi in giro notò che stava accanto a una bettola in cui si entrava scendendo dal marciapiede per una scala al piano sotterraneo dalla porta proprio in quel momento uscivano due ubriachi e sorreggendosi e ingiuriandosi a vicenda risalivano sulla strada senza pensare a lungo raskolnikov scese subito in basso mai fino allora era entrato nelle bettole ma adesso aveva il capogiro inoltre una sete bruciante lo torturava gli venne voglia di bere un po di birra fredda tanto più che la sua improvvisa debolezza l'attribuiva anche al fatto che era affamato sedette in un angolo scuro e sudicio a un tavolino appiccicoso chiese della birra e con avidità a voto al primo bicchiere subito si sentì sollevato e i suoi pensieri si schierirono tutte queste sono scempiaggini si disse con fiducia e qui non c'era da atturbarsi è semplicemente uno sconcerto fisico un bicchiere di birra un pezzo di biscotto ed ecco in un attimo la mente si fortifica il pensiero si rischiara le intenzioni si rinsaldano che meschinità tutto ciò ma nonostante il suo sputo di disprezzo egli aveva già un'aria gaia come improvvisamente liberatosi da un qualche orrendo fardello e con fare amichevole girò gli occhi sui presenti proprio in quel momento tuttavia avvertiva lontanamente che tutta quella disposizione all'ottimismo era anch'essa morbosa nella bettola a quell'ora rimaneva poca gente oltre quei due ubriachi in cui si era imbattuto sulla scala subito dopo era ancora uscita tutta insieme una compagnia di quattro o cinque uomini con una ragazza e una fisarmonica dopodiché vi fu silenzio e vuoto erano rimasti un uomo alticcio ma non molto seduto davanti alla birra all'aspetto un borghese e un suo compagno grosso corpacciuto in sibierca e dalla barba brizzolata molto avvinazzato che sonnecchiava su una panca e di tanto in tanto all'improvviso come di tra il sonno cominciava a far schiocchi con le dita divaricando le braccia e saltellando con la parte superiore del busto senza alzarsi dalla panca nel farché canticchiava non so qual scimenza facendo sforzi per rammentarsi dei versi come questi tutto l'anno la moglie accarezzò tutto l'anno la moglie accarezzò ad un tratto tornando a svegliarsi per la podia cescaia si avviò la sua di prima ci trovò ma nessuno ne condivideva la letizia il suo taciturno compagno guardava tutte quelle esplosioni addirittura ostilmente con diffidenza c'era lì anche un altro uomo simile nell'aspetto come chi dicesse a un impiegato a riposo stava seduto in disparte davanti alla sua mezzetta sorseggiando a tratti e guardando in giro pareva che fosse anche lui alquanto agitato un altro uomo simile